Buon pomeriggio, un grazie sincero a Maurizio Martucci e alla Casa del Sole per questa lunga maratona e per questa battaglia importantissima che mi vede al vostro fianco. Allora io vorrei iniziare da una domanda che penso sia importante perché bisogna sempre chiedersi il significato delle innovazioni tecnologiche. Cosa serve il 5G? Perché potenziare ancora di più le reti di comunicazione che indubbiamente hanno rivoluzionato le nostre vite negli ultimi vent'anni permettendoci anche di fare cose inimmaginabili fino a vent'anni fa come inviare una mail, una videochiamata, una videoconferenza. Ma siamo però a un punto della storia in cui non possiamo esimerci dal porci la domanda del senso profondo di una ulteriore accelerazione delle reti superveloci. Ecco qual è il senso della loro necessità? L'uomo ne ha davvero bisogno? Migliorerà la nostra vita come esseri umani? Sarà in armonia con la natura o creerà ulteriore squilibrio di più di quello che noi abbiamo creato. A mio avviso le reti 5G serviranno a spingere l'acceleratore in una macchina che sta già precipitando verso un burrone. Perché dico questo? Perché il nostro modello di civiltà sta già mostrando tutto il fallimento. È un modello di sviluppo basato sulla crescita illimitata e infinita che sta portando all'estinzione di molte specie animali e vegetali. Sta portando allo scioglimento dei ghiacciai, alla perdita della biodiversità, l'impoverimento della classe media, all'aumento della depressione, dei suicidi anche tra i giovani soprattutto nell'ultimo anno. E tutto questo sta avvenendo perché circa 30 anni fa è stato sostituito un modello di sviluppo, un modello economico, ma direi un modello di pensiero con un altro modello che ci ha portati verso il neoliberismo e verso la globalizzazione che è derivato da questo modello, che non è dunque un evento naturale a cui ci siamo dovuti piegare come vogliono farci credere, ma è un pensiero nato nelle università e che poi ha permeato le menti dei leader dei paesi occidentali e quindi è frutto di un pensiero umano. Questo ha fatto sì che cambiassero profondamente i valori basilari su cui la società fino ad allora si era costruita e si era basata e sono cambiati anche, è cambiato anche il linguaggio piano piano e quindi nel nostro lessico sono iniziati ad entrare parole come competizione, come individualismo, come velocità, rapidità, successo legato al profitto e ci hanno fatto credere che le innovazioni della tecnologia avrebbero permesso all'uomo di dedicare gran parte della propria giornata alle cose che contavano davvero, quindi agli amici, alla famiglia, alle relazioni umane, a se stessi. Ma cosa è accaduto realmente? È accaduto esattamente il contrario. Abbiamo assistito alla proliferazione di innovazioni in grado di ridurre i tempi in tutto, l'aereo, il computer, lo smartphone, il forno a microonde, la rete, ma il ritmo della vita è stato spinto a livelli inconcepibili fino a 20 anni fa e quindi cosa abbiamo iniziato a fare? A consumare i pasti rapidamente, a svolgere il lavoro rapidamente, a dedicarsi alla famiglia in modo distratto e questo ha portato ad una vita convulsa che ha fatto perdere il senso della vita stessa e perdendo se stesso l'uomo moderno si è non soltanto allontanato dalla propria anima, dalla propria vocazione più profonda, perdendo il senso della propria esistenza e questo ha creato infelicità, smarrimento, disorientamento, ma perdendo la propria identità ed essendo stato inserito come un cresceto nella velocità del non pensare è diventato più vulnerabili alle pressioni esterne, manipolabile, quindi è diventato un semplice anello di un ingranaggio infernale, di una macchina che produce soldi per pochi impoverendo la maggior parte dell'umanità. L'uomo moderno ha perso quindi se stesso, è sempre più spinto verso l'individualismo, verso l'allontanamento anche dalla natura che è sacra, dove noi troviamo la sacranità della vita, ha fatto emergere l'egoismo, l'avidità, l'arroganza, tutti i vizi umani su cui ha fatto leva il sistema neoliberista per poter alimentare se stesso. E anche la super tecnologia, che cosa ha fatto? Ha fatto perdere all'uomo anche il suo saper fare manuale, che significa saper essere, perché dietro quella manualità c'è una storia millenaria, c'è una storia tramandata da generazioni, che verrà persa per sempre. Allora stiamo vivendo un nuovo medioevo, una crisi che è radicale, che tocca tutti gli aspetti dell'essere umano. È una crisi spirituale, perché allontanandosi dalla natura e da se stesso, l'uomo ha perso la sacralità della vita, la ritualità della vita e ha alimentato la religione del consumismo, che ha i suoi idoli e anche il suo Dio, il Dio denaro e tutto ciò che è immateriale. Abbiamo perso dunque il contatto con l'invisibile, con lo spirito e ci siamo lasciati sedurre da ciò che è invisibile, da ciò che è immateriale, da beni spesso, anzi la maggior parte, beni superflui che non servono a nulla e che non aggiungono nulla nella nostra vita. Abbiamo perso il contatto, quindi ci troviamo ora in uno squilibrio non più sostenibile e la natura, gli eventi del mondo che stiamo vivendo e che stanno accadendo sotto i nostri occhi, ce lo stanno comunicando in tutti i modi, anche bloccandoci in casa finché possiamo nel silenzio riprendere il nostro filo di Arianna. E non è soltanto una crisi spirituale, ma è anche una crisi ecologica, una crisi politica, economica, sociale. Ecco, di fronte a tutto questo, qual è la risposta dei nostri governanti? Continuare ad andare in questa direzione, spingere ancora di più con la velocità, lo sviluppo, l'accelerazione che le reti di 5G porteranno, sostituiranno ancora di più l'uomo con le macchine, allontanandolo da quel saper fare che lo nobilita. L'uomo non servirà più, saranno le macchine dunque a sostituirlo, auto che viaggiano da sole, frigorifero che si apre da solo, luci che si accendano senza i nostri comandi, i nostri figli catturati sempre di più dalle tecnologie, perderanno la magia data dalla lettura di un libro che stimola invece la capacità creativa e la capacità di sognare. Ecco, che senso ha allora tutto questo? Che senso ha? L'umanità allora è ad un bivio e dobbiamo porci questa domanda. Vogliamo consegnare ai nostri figli un mondo in cui sarà estremizzato ancora di più ciò che stanno vivendo? Quindi didattica a distanza, solitudine, incapacità di relazioni, suicidio in aumento tra gli adolescenti oppure vogliamo restituire un modello di civiltà che avendo finalmente imparato dagli errori fatti cambia le regole del gioco e i valori su cui si fonda recuperando quel valore lento, il saper fare, la relazione, il senso di comunità, di compassione umana, di ripartenza dai territori. E allora abbiamo una sfida grande davanti a noi, piantare semi per una nuova umanità e un nuovo rinascimento dove ritrovare quell'armonia perduta tra l'invisibile e l'invisibile, tra lo spirito e la materia. E in questa sfida le reti 5G ci portano sicuramente fuori pista perché continuerebbero a condurci lungo quel percorso che si è dimostrato essere totalmente fallimentare, un percorso distruttivo e contro la vita. Noi invece tutti insieme dobbiamo lavorare per la vita che è sacra, nutriendo instancabilmente una visione diversa di civiltà. Grazie.